Il Tempio di Medine Tabu è un monumento storico di straordinaria importanza situato sulla sponda occidentale del fiume Nilo, a Luxor, in Egitto. Costruito durante il regno di Ramses III, uno dei sovrani dell'antico Egitto nel XII secolo acquistare, questo tempio è un'espressione magnifica dell'arte e dell'architettura dell'epoca. Il complesso si compone di diversi elementi distinti. La grande corte d'ingresso, con i suoi enormi pilastri scolpiti e le decorazioni complesse, dà un'immediata sensazione di grandezza. Le pareti del Tempio sono ricoperte di rilievi che narrano eventi storici, vittorie in battaglia e rituali religiosi. Questi dettagli artistici ci offrono una preziosa finestra su aspetti della vita quotidiana, della cultura e delle credenze dell'antico Egitto. Uno degli elementi più affascinanti è la serie di cappelle delle navi che raffigurano imbarcazioni sacre utilizzate per cerimonie religiose e processioni fluviali. Queste sculture e pitture forniscono un'idea della connessione tra la gente e il fiume Nilo, fondamentale per l'agricoltura e la sopravvivenza dell'antico Egitto. Il Tempio di Medine Tabu ci ricorda l'importanza della religione e della monarchia nell'antica società egiziana. La sua struttura maestosa, i dettagli elaborati e la bellezza delle decorazioni testimoniano l'abilità artigianale e l'orgoglio di un'epoca lontana. Visitare questo Tempio è un viaggio nel passato che ci permette di comprendere meglio la ricca storia e la cultura dell'antico Egitto.